Finalmente ce l'abbiamo tutto nostro! Il mio... Tessaro! Salve, oggi parliamo di anelli smart nella fattispecie dell'Oura Ring che è l'anello smart in questo momento più smart di tutti. È da poco uscita la terza generazione di anello. Potevo non comprarlo? Tra l'altro interessantissimo è il fatto che si fa tutto online. Un anello ovviamente non è un watch con il cinturino variabile e quindi prima di mandarmi il prodotto mi hanno mandato questo che è un sizing kit e che sostanzialmente ha degli anelli in plastica quindi di valore pari a praticamente zero con tutte le taglie e tutte le misure. Ci sono poi le indicazioni per provarli nel senso che oltre a prendere il sample e metterlo al dito qua sotto vedete ci sarebbero i sensori va messo in un determinato modo poi consigliano di provarlo per più ore durante la giornata perché per il calore, il freddo, il sangue, la circolazione nelle nostre mani si espandono, si contraggono quindi ci sono le misure dalla più piccola alla più grande diciamo che praticamente per tutte le tasche o meglio le dita più che le tasche alla fine nel mio caso ho optato per questa che è la numero 10 dopodiché sul sito ho selezionato appunto la taglia e qualche giorno dopo mi è arrivato lui. Il sizing kit per quanto valga poco te lo lasciano il che è una mossa di marketing geniale perché ti permette banalmente di far provare la misura all'amico piuttosto che al parente piuttosto che non lo so che cosa veramente super efficiente questa cosa della taglia sembra scontata ma è bello quando un'azienda pensa proprio a tutti i dettagli detto questo qua c'è l'anello guardate già la confezione quanto è minimal, quanto è pulita già partiamo bene in teoria aprendo eccolo qua molto interessante allora questa è la versione diciamo opaca quindi c'è l'anello classica forma a cerchio e qua è leggermente appiattito qua dentro c'è sostanzialmente una sorta di pin per la ricarica mentre questi tre qua sotto dovrebbero essere i sensori molto 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 interessante qua troviamo questa che immagino sia la base di ricarica che è in metallo molto bello con la presa USB-C l'anello si appoggia qui alla perfezione e immagino tramite ricarica e induzione si ricarica dopodiché qua abbiamo il cavo di ricarica USB-USB-C normale questo guida molto semplice che dice mettilo qui mettilo in carica scarica l'applicazione e sei pronto che mi sta proprio è quello che faremo adesso andiamo a scaricare l'apposita applicazione vi dico sono veramente eccitato di provarlo proprio nella vita di tutti i giorni perché adesso coincidenza vuole non ho l'Apple Watch ma di solito ce l'ho sempre addosso di fatto però lo uso spesso solamente per l'attività fisica o chissà che altro e quindi questo anello potrebbe essere veramente la soluzione soprattutto quando è scomodo indossare un orologio e comunque è interessantissimo perché è un oggetto così piccolo che però teoricamente può fare un sacco di cose che adesso andiamo a vedere quindi apriamo l'applicazione start ovviamente mi devo registrare fare tutto quanto allora lo appoggiamo sulla base setup vediamo un po' heritage stealth generation 3 size 10 connect e ti pareva che non ci fosse un aggiornamento firmware comunque fa ridissimo che un anello debba fare un aggiornamento software ok fighissimo perché nel caso di iPhone tutto è sincronizzato in automatico con salute ora mi pare di aver capito che loro si vendano sì per lo sport e la salute ma anche molto di più per cose un po' più spirituali tipo la meditazione il monitoraggio del sonno quindi qua vedete ci sono un po' di cose se io me lo metto va messo con la parte qua sopra e i sensori sotto vedete sull'indice sta alla perfezione guardate che bella questa finitura tra l'altro ho paura che si graffi molto facilmente però mii dovete baciare l'anello non ho mai messo un anello non ho letto e stavo per accettare una roba fatta per il ciclo ok period effettivamente è il ciclo anello connesso batteria 77% direi che lo carico fino al 100% quindi lo riponiamo qua come al solito lo testo un po' e vediamo che succede Yaki tutto ok? noi siamo potenti come noi i poteri noi il mio il mio è la testa noi possiamo possiamo misurare i battiti possiamo misurare il sonno noi noi siamo potenti con lui lui è potente con noi dura una settimana la batteria possiamo misurare i movimenti il mio tesoro ok quindi scherzi a parte il potere che dà questo cosettino qua è notevole considerando che è una cosa leggerissima e che sta al dito fa un sacco di cose l'ho testato ormai per quasi due settimane e devo dirvi che sono veramente combattuto passo dall'amarlo completamente all'odiarlo terribilmente forse perché è incantato chi lo sa fatto sta che mi ha veramente stupito perché può fare un sacco di cose dall'altra parte però mi ha lasciato anche un bel po' di domande che adesso cerchiamo di capire anzitutto però vi faccio vedere l'applicazione e vi faccio vedere i dati che ha raccolto in queste due settimane ora questa è la home page dove ci dà qualche dato panoramico come la frequenza cardiaca la prontezza il sonno tra l'altro qua ha rilevato in automatico una camminata che ho fatto stamattina quindi andiamo a confermare l'attività perfetto e quindi fondamentalmente abbiamo queste tre categorie prontezza sonno e attività la prontezza è quella diciamo un po' più generale è un'indicazione su vari parametri vitali quindi tiene conto della frequenza cardiaca riposo la variabilità del battito cardiaco la variazione della temperatura corporea e la frequenza respiratoria ed è fighissimo perché di ognuno di questi parametri posso vedere il cambiamento nel corso del tempo ora non so dirvi se questi dati siano affidabili però sono sicuramente interessanti e per dire il dato della variazione della temperatura corporea è un dato che non mi risulta sia particolarmente comune negli smartwatch è molto figo che dia delle indicazioni che altre cose non danno sebbene forse siano totalmente inutili oltre a darti il numero però ti dice anche se è buono se è ottimale adesso vi recupero qualche altro giorno vedete tipo questo giorno ho dormito poco mi ha detto attenzione e a proposito di sonno c'è proprio la sezione dedicata al sonno ultimamente non sto dormendo tantissimo fatto sta che abbiamo tutti i parametri quindi sono totale tempo a letto efficienza del sonno frequenza cardiaca riposo divide le fasi in sveglia fase REM sonno leggero e sonno profondo insomma per i nerd del sonno questa cosa è veramente interessante ed ha un sacco un sacco un sacco di indicazioni dopodiché abbiamo la pagina attività con relativo punteggio i chilometri fatti i passi fatti il consumo di calorie e gli allenamenti che vengono rilevati in automatico per esempio ieri ho fatto questa corsa in questo caso non c'è il percorso disponibile perché non avevo attivato la localizzazione però volendo si può attivare ovviamente usa quella del telefono e c'è la possibilità ovviamente di avere i dati del battito cardiaco di tutte le cose classiche per concludere questo tour dell'applicazione comunque c'è la sezione esplora dove principalmente si trovano meditazioni o comunque esercizi legati in qualche modo al respirare al dormire o chissà che altro figo che c'è anche proprio la sezione impara e ci sono tutta una serie di tutorial e di spiegazioni in questo caso per esempio le fasi del sonno il sonno profondo l'ora di dormire la luce e che permettono poi di imparare ad analizzare i dati dati dall'anello per il resto le meditazioni guidate ho provato qualcosina sono abbastanza classiche sono abbastanza tutte uguali però ci sta tra l'altro altra funzione interessantissima se si va a scaldare in questo modo esce scritta una frase un anello per domarli un anello per trovarli un anello per ghermirli e nel buio incatenarli non è vero semplicemente sono super fan del signore degli anelli se non si fosse capito quindi tutto molto bello ma ha effettivamente senso secondo me sì però ci sono un po' di cose da dire dipende un attimo punto numero uno indipendentemente dalla sua reale utilità è un oggetto figo da avere è un oggetto figo da mettere senti di avere qualcosa futuristico che quasi nessun altro ha perché è ancora abbastanza di nicchia e quindi quando vai in giro la gente ti chiede ma cos'è quell'anello cosa fa cosa non fa e tu puoi dire è un anello smart e fare il figo tra l'altro questa finitura opaca mi piace veramente tanto c'è chi spende decine di migliaia di euro per degli anelli che non fanno nulla con sopra una pietra trasparente certo lui si fa pagare perché siamo sui 500 euro però oltre a essere un bello oggetto da mettere al dito ha anche appunto tante funzioni la cosa che mi fa amare questo anello è il fatto che è un dispositivo che analogamente a un orologio ti monitora tutti i parametri diciamo fondamentali di vita però perlomeno sulla carta è molto meno invadente perché è molto più leggero molto più comodo l'idea è che un anello rimane proprio sempre 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 al dito però ci sono tante circostanze in cui in realtà bisogna comunque toglierlo quindi se come concetto nasce come dispositivo da avere sempre al dito finché devo monitorare per dire la corsa va bene però banalmente se vado a nuotare l'anello me lo devo togliere perché c'è il rischio di perderlo adesso io sto andando a scalare e scalare con un anello è assolutamente sconsigliato o anche solo banalmente giocare a basket o giocare a tennis in quel caso un orologio anche se è più scomodo è sicuramente più consigliato se proprio si vuole tenere qualcosa che ti monitori l'attività discorso diverso invece per il sonno nel senso che io per dire faccio fatica a dormire con l'Apple Watch un po' mi dà fastidio dormire con lui invece mi dà molto molto meno fastidio quindi per il monitoraggio del sonno può secondo me essere veramente interessante l'altra cosa fantastica è che anche se è minuscolo la batteria dura un sacco io in queste due settimane l'ho caricato solamente una volta a differenza di questo robo qua che dura a stento un giorno e mezzo che secondo me è il problema più grande dell'Apple Watch a quel punto se uno vuole un dispositivo con una batteria che dura un bel po' di tempo che sia più leggero più comodo e quant'altro si prende un Mi Band ed è a posto però è anche proprio una questione di gusti a me piace il concetto di mettermi l'anello smart e avere solo questo piccolo coso che mi monitora tutte le cose importanti quando vedo però tutti questi dati con tutta questa precisione dico sì ok lui ha il sensore di battiti ha il sensore di temperatura ha tutti gli altri suoi sensori avrà sicuramente un piccolo giroscopio o comunque un sensore di movimento che capisce quando lo stai mettendo quando lo indossi detto questo è anche vero che l'applicazione di fatto è sul telefono quindi quello che mi domando è realmente quanti dei dati che abbiamo visto sono al 100% dall'anello sicuramente la frequenza cardiaca sicuramente i movimenti però poi tutto il resto può benissimo venire preso diciamo dal telefono e quindi sarebbe un pochettino una fregatura in questo caso è chiaro che la cosa fantastica è prendere i dati del telefono prendere i dati dell'anello unirli e ottenere un report dettagliato però se poi il telefono fa il 90% delle cose allora tanto vale vero anche è che alla fine un dispositivo wearable uno lo tiene per il movimento e per i battiti tutte le altre funzioni sono un extra poi sull'apple watch c'è un altro discorso perché lui ha potenzialità infinite può avere anche la sim può fare mille altre cose è anche proprio stupido paragonare questo a questo coso qua quindi la soluzione è tenere sia l'apple watch sia l'anello ora io sicuramente lo continuerò a utilizzare per un po' poi vediamo cosa succede è indubbiamente affascinante tutto questo discorso dei wearable nel senso che noi abbiamo visto gli smartwatch sono esplosi gli smartwatch le cuffiette sono esplose le cuffiette bluetooth il prossimo passo saranno gli anelli smart non lo so non credo però potenzialmente ci sono un sacco di dispositivi indossabili che un domani potrebbero essere utilizzati dalle mutande smart a ovviamente gli occhiali alle scarpe a un cappello o chissà che altro ci sono già tanti prodotti e tanta gente che sta sperimentando in questi ambiti la maggior parte delle cose sono fuffa questo anello invece è un prodotto figo che si può usare ed è sicuramente un gadget che ci fa sentire in qualche modo nel futuro non fa diventare invisibili non dà nessun potere però fortunatamente non è necessario distruggerlo in un vulcano quindi ci vediamo prossimamente con prossimi gadget e prossime cose ciao 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 ciao